La parte finale di questa giornata, lunga mattinata, intensa mattinata, interessante mattinata, è un premio. La prima edizione, ma ce ne saranno tante tante altre, che GEA, UIDAB e FIDA hanno deciso di istituire per premiare i fondi più virtuosi dal punto di vista green. Lo spiegherà tecnicamente con potere di sintesi Luca Lodi di FIDA, do la parola al mio amministratore delegato Andrea Poli di UIDAB, che spiega sempre con potere di sintesi il perché di questa iniziativa a lato nostro. Buongiorno a tutti e grazie di essere intervenuti. Cerco di essere sintetico perché il direttore è feroce su questo, però mi sia consentita una piccola premessa perché spiega molto di quello che abbiamo visto oggi e nei mesi passati e di quello che verrà nei mesi futuri. Lo faccio spiegando che cos'è la Fondazione Articolo 49, che è il motore di eventi come questo. Nasce nell'ottobre dell'anno scorso su volontà di UIDAB per incarnare le politiche di responsabilità sociale e di impresa. Ed ha come oggetto sociale la volontà di facilitare il concorso di cittadini nella determinazione della politica nazionale. Ora, c'è una doppia dimensione. La politica nazionale non si può determinare da sola e lo abbiamo capito oggi in tutti gli altri contesti in cui siamo intervenuti. Lo si deve fare tenendo conto della politica europea. Quindi le attività della Fondazione vanno in questa direzione, un binomio tra politica nazionale e politica europea, grazie anche al supporto, e colgo l'occasione per ringraziarli, di Parlamento europeo e di Commissione europea, che sono sempre a nostro fianco nelle iniziative e che ci consentono di sviluppare dibattiti di sempre ampio respiro. Ora, al di là di questa doppia dimensione, determinare la politica nazionale ignorando la dimensione economica e la dimensione finanziaria non è assoluto utopistico, è profondamente sbagliato e controproducente. Giuliano prima citava il primato della finanza sulla politica. Io credo che dovremmo superare una retorica sbagliata che poi è diventata cultura diffusa, quella che vede una contrapposizione, ovvero tra la finanza, l'economia e la politica. Spesso si è raccontato questo trittico poggiando sul concetto di contrapposizione. Io credo che dovremmo parlare di circolarità, perché la politica fa le norme. La finanza deve operare secondo queste norme per supportare la crescita dell'economia e senza crescita dell'economia nessun governo può attuare politiche di sostenibilità sociale. Quindi la circolarità è totale. Ora, oggi si è sentito più volte citare un quadro normativo in costante evoluzione. Io credo che non si può pensare di costruire delle norme funzionanti e funzionali ignorando un dibattito concreto e continuo con l'economia e la finanza. Perché qualsiasi norma venisse costruita pensando di produrre sui tre pilastri dei benefici ed ignorando il fatto che le aziende e i fondi hanno come obiettivo produrre valore anche economico, è inutile. Quindi, a mio parere, il nostro compito come fondazione è continuare a insistere in occasioni come queste, in tutte le attività che facciamo, puntando sull'informazione, sul confronto e cercando di far andare in cantina un altro preconcetto, che è quello di identificare la lobby come qualcosa di negativo, che è una visione provinciale, italiana, deleteria. Il compito dell'informazione, quindi il compito di GEA, di UIDAB, di tutti i media partner che vedete qui citati, è quello di portare l'informazione, il confronto e il dibattito alla luce del sole. Perché riteniamo che questo sia positivo. Cioè, il concorso determinato alla politica nazionale, europea e mondiale è determinante perché le politiche siano efficaci e sostenibili. Quindi, mi concludo ringraziando FIDA per aver accolto la sfida di matchare il ranking sulla sostenibilità dei fondi con quello dell'efficienza degli stessi. Noi ci occupiamo di data visualization. Per noi i dati sono fondamentali, sono la base dell'informazione. e credo che nulla che non possa essere misurabile, misurato in una maniera corretta e per corretta intendo con parametri che siano diffusi. Molti parametri non sono proprio delle piccole e medie aziende che costituiscono il tessuto del nostro paese. Quindi su questo una riflessione andrà fatta. Nulla che è misurabile può essere raccontato. Prima si parlava della possibilità delle aziende di produrre alle banche senza costi eccessivi delle certificazioni che consentono di essere finanziate. Nulla può essere raccontato ma nemmeno governato. Quindi lo sforzo che stiamo facendo assieme è quello di cercare dei parametri che siano riconosciuti, diffusi e economici nella loro costruzione. Grazie. Grazie Andrea. Prima di cedere il microfono a Luca Lodi di FIDA io ci tenevo a ringraziare, non l'ho fatto prima, Nuvin che ci ha supportato in questo evento, i nostri media partner che sono RAI Radio 1, AFP, Agency Farm Press, Public Policy, il bollettino e Radio Radicale. Spesso ci accompagnano nei nostri eventi quindi era giusto assicciarli e mi dispiace non averlo fatto all'inizio di questo evento. Benissimo. Si sente? Si sente. Cercherò di essere molto sintetico. Allora a me tocca l'onore di introdurre questi premi agli operatori della finanza che rendono possibile quello che è stato detto fino adesso. Cioè naturalmente per la transizione ecologica e non l'intervento pubblico è fondamentale ma lo è parimenti l'investimento privato e tra i veicoli principali che possono permettere che gli investimenti privati siano convogliati verso la transizione economica c'è certamente il risparmio gestito. E noi abbiamo fatto, e ringrazio per averci scelto come partner, abbiamo fatto una selezione di strumenti finanziari del risparmio gestito, adesso entrerò un po' più nel dettaglio, che tenesse conto sia della sostenibilità ma anche, come dicevamo prima, dei parametri che gli investitori necessariamente considerano fondamentali come il rischio e il rendimento. Fida, prendo solo un minuto per dire che noi analizziamo dati da decine di anni, Fida nasce da una storia lunghissima, pensate che già negli anni 80-90 la società da cui Fida nasce distribuiva dati digitali anche a Banca Italia. Quindi siamo oggi leader nelle analisi sulla distribuzione di dati nel risparmio gestito, distribuiamo piattaforme e soluzioni tecnologiche per banche e assicurazioni e abbiamo un ufficio studi, un centro studi sufficientemente strutturato che oggi produce e sviluppa metriche e metriche proprietarie su strumenti di risparmio gestito, recentemente anche su Polizia e Vita. Ed è sulla base di queste, oltre che su indicazioni di compliance, che abbiamo sviluppato questa selezione. Noi immaginiamo che si parte da oggi circa 25.000 fondi venduti alla clientela retail in Italia. La prima cosa che abbiamo deciso insieme di fare è stata quella di ridurre questo insieme ai soli articolo 9. L'abbiamo citato un po' di volte oggi. L'articolo 9 sono quelli che dal punto di vista della compliance, dell'SFDR, hanno come obiettivo della politica di investimento degli obiettivi sostenibili, quindi quelli che per eccellenza possiamo considerare sostenibili. Poi abbiamo inserito un secondo filtro. Noi abbiamo sviluppato un nostro rating proprietario che si affianca a una serie di rating che sono tendenzialmente realizzati da grandi multinazionali, siccome oggi c'erano anche istituzioni europee, generalmente sono grandi colossi che sono anche extraeuropei, quindi un ruolo importante ce l'abbiamo anche noi nel fare questo. Abbiamo sviluppato un rating composito che analizza il portafoglio degli strumenti dei fondi dal punto di vista della sostenibilità e affianca delle ricerche specifiche che noi facciamo sulle società di gestione. Peraltro si è parlato di intelligenza artificiale, l'analisi di portafoglio viene realizzata con sistemi proprio di intelligenza artificiale. L'idea è che attualmente la maggior parte delle valutazioni di sostenibilità si basano su informative societarie. Questo sistema invece analizza centinaia di migliaia di fonti esterne, quindi le informazioni che arrivano dagli stakeholders e che danno un giudizio aggregato sulla sostenibilità nei suoi vari aspetti. Con questa metodologia vengono analizzati i portafogli. Mentre lato società noi eroghiamo dei questionari dalle quali desumiamo la vocazione insita nelle società di gestione sia in termini di CSR, quindi di politiche sostenibili all'interno della gestione della società, che ad esempio anche la gamma prodotti, le risorse investite in termini di sostenibilità, eccetera, per dare solidità alle informazioni che abbiamo desunto dai portafogli. E poi introduciamo altri elementi come la trasparenza, che di per sé rappresenta sostenibilità, o anche la classificazione, quindi la classificazione dei sensi delle SFDR, che ha un valore oggettivo e di compliance. Ebbene, e quindi abbiamo ridotto ulteriormente l'universo di questi prodotti a circa 200 prodotti. Infine, come dicevo prima, l'obiettivo era scegliere quelli che erano anche performanti. Performanti quindi, sia dal punto di vista dei rendimenti che dal punto di vista del rischio. Noi abbiamo un nostro rating di performance, espresso in corone, abbiamo selezionato solo quelli che erano all'interno delle proprie categorie, cioè all'interno dei propri peer, quelli che hanno politiche di investimento analoghe, tra i migliori, quindi con 4-5 corone. Ecco, da questo sono emersi 10 comparti, che sono quelli che andiamo oggi a premiare. E quindi io ringrazio di nuovo, sono felice di poter premiare quelli che effettivamente contribuiscono a convogliare gli investimenti. Bisogna anche, devi dire, che è il primo caso in Italia come premio, come riconoscimento, perché mettiamo insieme, che se ne parlava prima anche di educazione finanziaria, mettere insieme rendimento, sostenibilità e rischio. Cioè, è anche un unicum per ora. Dicevo che sono due unicumi insieme, innanzitutto è il primo premio basato su un rating di sostenibilità di una società italiana e che associa in questo caso premio, come dicevi, sia i due aspetti che prima citavamo essere fondamentalmente, devono essere fondamentalmente considerati insieme, quindi confermo. Io che ci capisco poco, onestamente, quindi coroncine e alberelli. Sì, esatto. Cinque coroncini e cinque alberelli. Sono degli alberelli, sì, esatto. Questo è un po' bello, poi alla fine... Sono tre i criteri, articolo 9, cinque corone e cinque valdi. Benissimo. Devo aggiungere altro, possiamo proseguire con la premiazione. Allora, io per il dovere lascio a Giuliano l'elenco, premiano il nostro amministratore delegato Andrea Poli e Luca Lodi di Fida. Noi siamo delle comparse, ci spostiamo, lasciamo il palco a loro e tu chiami, alcuni fondi non sono presenti perché sono impegnati all'estero, alcuni sono, grazie al cielo, presenti. e lascio a te il compito di... Ma allora, chiamerei appunto per il fondo di Ben Pepe Paribas Climate Impact Classic, ritirano il premio Edoardo Trampetti e Cristiano Turchetti, che sono Client Relationship Manager. Grazie. 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 E complimenti, ovviamente. Foto di rito. E' il primo premio del primo premio, quindi è entrata nella storia. Primo del primo, in ordine al favore. Grazie. Poi proseguiamo con ben due targhe, che ritirerà invece una sola persona, per i fondi Etica Azionario R ed Etica Bilanciato R, e ritira il premio Marco Carlizzi, presidente di Etica SGR. Grazie a tutti. e ritirà il premio Sonia Parise, che è Sales and Relationship Manager. Eccoci qua, che adesso guardavo in là, ma era qua vicino a me. Buongiorno, grazie, complimenti. Grazie. Ci tagliate adesso, ci tagliate come ci sono. Grazie. Allora, non sono presenti perché appunto avevano impegni concomitanti anche e soprattutto all'estero, gli esponenti di altri fondi che possiamo vedere lì, possiamo anche elencarli appunto, Amundi, Fund Eudo, Corporate Short Term Bond, poi Janus Anderson, Horizon Global, Sustainable Equity Fund, GU2, perché poi hanno dei nomi, no? Poi due targa avrebbe preso anche, rappresentati di Candrium Equity Sustainable M.U.R. e Candrium Equity Sustainable Europa R. Franklin Temperature Global Climate Change Fund A. e PICTE. PICTE. Quindi, chissà se vinceranno prossimo anno, se vinceranno prossimo anno, li ospiteremo. Io ti invito, visto che sei stato il one man show di questo evento e ti ringrazio perché è venuto molto bene. Io, venite pure qui, stiamo pure qui, tanto siamo ai saluti. Anche noi ci prendiamo una pausa dagli eventi, la pausa estiva, breve, breve pausa estiva. L'appuntamento è a ottobre, il 12 ottobre se non sbaglio. Ci sarà un evento sulla mobilità, sarà materia che io masticherò con meno difficoltà rispetto a questa. Però... La finanza è più semplice di quello che appare. Stamattina ho fatto un po' fatica a stare dietro a tutti i vostri discorsi, però va bene lo stesso. Mi farà piacere avere con me anche qui Lorenzo che ha fatto... Vieni pure Lorenzo, vieni. Oggi abbiamo fatto un po' di aspettatori, a ottobre farai da protagonista. Dicembre avremo il grande evento HGE che è arrivato a dieci anni di vita, di storia e lo faremo a Bruxelles per facilitare la logistica di Federica e di Domenico. Dovranno organizzare il tutto. Grazie, come al solito. Adesso c'è un lunch, un lunch, un lunch, un lunch, un lunch, perché c'è la prova costume. E quindi grazie a tutti e ci rivediamo a ottobre. Grazie. 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 Grazie.